Sicuramente quello della parità di genere, equilibrio di genere è un argomento che poi sia particolarmente rilevante nel mondo della ricerca, è veramente brutto perché la ricerca dovrebbe essere avanti, non ultima e quindi dovremo lavorare molto. Io penso che si debba lavorare soprattutto sul rispetto della Carta Europea dei ricercatori e sui meccanismi di reclutamento e di carriera perché il ricercatore stendo in un ambiente molto selettivo, in un ambiente in cui si misura tutto, è anche poco tutelato in generale per cui le donne tendono a cedere il passo rispetto agli uomini per anche i problemi di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa. Quindi noi dovremmo innanzitutto educare nelle scuole, lavorare sulle tutele, sul contratto dei ricercatori, sul rispetto della Carta Europea.